E' giunta ieri alla provincia di Savona una richiesta da parte della Regione Liguria di una nostra attiva partecipazione alle operazioni che si stanno svolgendo in provincia di La Spezia. Abbiamo predisposto ieri l'atto e sono lieto di dire che stamattina è già partito un mezzo dalla provincia di Savona alla volta della provincia di Spezia per mettersi a disposizione dei colleghi spezzini e soprattutto delle popolazioni che in questo momento stanno vivendo una situazione di lutto e di tragedia. Voglio però pubblicamente ringraziare i tre dipendenti della provincia di Savona che sono stamattina partiti, sono la geologa Cheli, il geometra Musotto e l'ingegnere Briano. Già altre volte si sono resi protagonisti di operazioni in giro per l'Italia, ricordo la partecipazione di alcuni di loro all'emergenza che colpì l'Umbria l'anno scorso e quest'anno rappresentano, ahimè, in un momento molto delicato e difficile per la nostra terra, la nostra provincia in terra spezzina.